Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganessimo. Come ogni giovedì andiamo in onda dai microfoni di Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16 e 30 e dalle ore 19 alle ore 20. Bene, questa trasmissione sono solo, Francesco per questioni di lavoro non ci può essere e la trasmissione di oggi praticamente verterà su una serie di informazioni di carattere di cronaca, notizie che vengono fuori dalla stampa e essenzialmente poi girerà attorno al discorso generale che è il discorso sulla divinazione è un discorso sulla divinazione che ho già fatto in lista, i pezzi sono già in internet ormai da parecchi mesi e dal momento che occupa molta parte della trasmissione ho voluto farlo quando non c'è Francesco perché altrimenti in due persone viene a soffocare l'altra persona che trasmette insieme. Bene, prima di incominciare questo però chiaramente andiamo avanti con gli appuntamenti gli appuntamenti che ci saranno ed è praticamente sabato 3 dicembre ci troviamo qui in sala Radio Gamma 5 alle ore 20 e 30 dove sarà illustrato quello che è stato il congresso di Anversa faremo una breve relazione, faremo vedere un po' di immagini e illustreremo un pochino il tutto anche con le soluzioni finali che si sono assunte al congresso stesso pertanto l'appuntamento è anche un'occasione dopo parecchi mesi di trovarci tutti assieme anche perché per un motivo o per un altro i dibattiti sono stati interrotti li riprenderemo quando sarà possibile e fra poco oltretutto riprenderemo a marzo quei riti presso il Bosco Sacro di Jesolo pertanto è anche un modo di ritrovarci insomma di parlare un po' assieme saranno come solite riunioni, proietteremo quello che è stato le vicende di Anversa le immagini sono quelle che sono ma comunque in ogni caso cercheremo di relazionare il più possibile anche perché Emanuele ha tradotto tutti gli interventi che sono stati fatti cioè i cinque interventi fondamentali su cui è stato incentrato il congresso e vedremo anche se riuscirò a sottolineare alcune incongruenze, alcune cose che dobbiamo chiarire è che il percorso stesso del paganesimo deve necessariamente affrontare nel corso del tempo e nel corso delle sue trasformazioni naturalmente il movimento pagano a livello internazionale è un movimento pagano estremamente attivo e pieno di anche contraddizioni se vogliamo nel senso che sta affrontando il nuovo e le persone affrontano il nuovo naturalmente con le forze che hanno cioè con le possibilità che hanno e naturalmente tutto questo porta a sviluppare continuamente nuovi modi di essere e nuovi modi di affrontare la vita e l'esistenza attraverso un dibattito che è estremamente articolato e di questo ne parleremo sabato 3 dicembre dopodomani praticamente alle ore 20.30 qui in sala dibattiti Radio Gama 5 bene questo è l'appuntamento diciamo così più prossimo appuntamento più vicino c'è un'altra cosa da parlare ed è stato il convegno di studi laici Gesua che si è tenuto a Montegrotto Terme a Montegrotto Terme domenica 27 domenica 27 novembre il gruppo Ighina e Radio Gama 5 cioè associazioni legate a Radio Gama 5 hanno organizzato questo convegno di studi laici presso sala dei congressi di Montegrotto Terme dunque cosa è successo a questo convegno? in questo convegno ci sono stati degli oratori che hanno esposto un po' le loro tesi hanno esposto quello che è la visione fra virgolette laica del cristianesimo ora è abbastanza difficile riuscire dal congresso a capire qual è la visione laica del cristianesimo o se il laicismo il laicismo che poi vi ricordo che il termine laico va a significare molti aspetti diversi anche spesso contradditori fra di loro il laico per esempio è un cristiano un cristiano che non ha i voti nello stesso tempo è colui che rifiuta uno stato confessionale cioè il laico ha vari significati non ne ha uno solo in realtà in ogni caso è abbastanza difficile vedere qual è la visione della vita del laico ma quello che è importante sottolineare è la diversità di approccio che c'è fra un pagano politeista e un laico, chiamiamolo così rispetto a quello che è la religione, a quello che è il cristianesimo mentre un laico praticamente disumendo da quello che si è sentito a Montegrotto Terme pensa al cristianesimo come un oggetto cioè come un oggetto di studio come un oggetto in sé di studio il pagano politeista vede il cristianesimo attraverso i suoi dogmi cioè attraverso i suoi principi e attraverso il trasferimento di questi dogmi di questi principi all'interno del tessuto sociale cioè l'approccio religioso del pagano politeista è un approccio religioso vero e proprio non è un approccio che ha il laico il laico va alla ricerca della verità delle origini, della realtà dell'oggetto manifestato il pagano politeista invece va alla ricerca degli effetti che hanno i principi, i dogmi, le manifestazioni al di là se queste siano vere o non vere cioè non ci ne frega niente come pagani politeisti che il pazzo di Nazareth e Gesù di Nazareth non è mai esistito sappiamo benissimo che non è mai esistito però non ci interessa sapere se si chiamasse Giovanni di Gamala o se si trattasse di un Giuda che faceva la resistenza contro i Romani o di un altro personaggio cioè sì, ci interessano le questioni storiche ma ci interessano in funzione della comprensione di come nascono i dogmi come nascono i principi del cristianesimo e proprio per aumentare quella che è la nostra capacità di intervenire di intervenire proprio a svelare quello che sono gli effetti del dogma cristiano del principio cristiano nella società civile pertanto il nostro è un approccio religioso più che un approccio storicista o storico mentre invece quello che si è notato in tutti gli interventi che sono stati a Montecorto Terme è stato l'approccio storico per fare una cronaca generale di quello che è stato il congresso e adesso diciamo che il primo oratore è stato Roberto Vacca Roberto Vacca che ha detto tutta una serie di cose e secondo noi pagani sono cose importanti ha iniziato la sua relazione dicendo io laico no non mi definirei laico perché laico significa varie cose e sinceramente non mi piace anticlericale no ha detto non mi definisco anticlericale anti il crero mi sembra un po' poco poi ha detto ateo non mi definisco ateo non posso definirmi ateo proprio perché ateismo è una contrapposizione io dice Roberto Vacca mi definisco gentile gentile è un termine che veniva usato per dire i non cristiani e viene usato storicamente per definire praticamente le antiche religioni prima che il termine gentile fosse sostituito per decreto imperiale col termine pagano naturalmente cosa è successo? quando Roberto Vacca ha detto una cosa del genere ha avuto uno scrociare di applausi dalla platea e in effetti Roberto Vacca si è guardato attorno un po' perplesso perché pensava di essere preso un po' per i fondelli e invece gli abbiamo detto immediatamente che si trattava di solidarietà pagana che è un po' diverso e in realtà in platea c'erano molte molte persone che seguono questa trasmissione naturalmente molti passaggi suoi sono stati applauditi nel senso che non faceva altro che riprodurre molti concetti nostri che anche all'interno di questa trasmissione stiamo diffondendo ormai da anni diverso invece è stato l'approccio con gli altri oratori anzi con un paio di oratori è stato addirittura un approccio un po' conflittuale nel senso che se per esempio se per esempio vediamo un attimo Mazzero ha fatto una relazione diciamo così abbastanza scettica nel senso che ha detto io ho queste cose cioè io vi presento quello che io ho visto quello che io ho studiato senza dare una valenza senza dare una valenza diciamo diversa da quello che lui diceva va chiaramente rispettato perché dice questo è il mio lavoro e chi ti propone il suo lavoro lo rispetti insomma non c'è niente da fare anche Casciogli e Donini in realtà e anche Galavotti hanno presentato i loro lavori e le loro cose però la differenza fra Mazzero e Casciogli Donini e Galavotti naturalmente questo è quello che ho visto io è dovuta al fatto che mentre Mazzero ha fatto un discorso suo che chiudeva nel discorso Casciogli Donini e Galavotti facevano un discorso anticlericale un discorso laico ma in funzione di qualche cosa di diverso cioè in funzione di obiettivi diversi che avevano loro dal laicismo dal discorso che stavano facendo ed è questo è stato l'aspetto che secondo me stride anche fra i laici nessuno dice o pretende il fatto che i discorsi laici non siano fatti in funzione di qualche cos'altro però chiaramente quel qualche cos'altro assume un rispetto prioritario rispetto al discorso laico stesso il discorso di Galavotti aveva una funzione precisa cioè aveva il discorso di fare un discorso laico in funzione di esaltazione di posizioni politiche che a memoria storica vanno verso il socialismo vanno verso alcuni aspetti dei partiti comunisti che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa in pratica il discorso laico era un discorso strumentale e funzionale dei discorsi che apparentemente erano materialisti in realtà c'era una difesa molto forte di quelli che erano i principi cristiani principi cristiani riletti chiaramente in chiave socialista però sempre principi cristiani e la sua accentuazione e i suoi risultati finali era un risultato finale rispetto a una a una sorta di ateismo di cosiddetto dei vecchi partiti di sinistra c'è un ateismo che comunque non è mai esistito ma bisogna risalire prima della guerra mondiale bisogna risalire alla resistenza per trovare questo tipo di ateismo che però non metteva in discussione il cristianesimo ma anche lui era alla ricerca di una realtà diversa del cristianesimo rispetto a quella manifestata cioè noi come pagani politeisti che il principio sgozza quelli che non si mettono in ginocchio sia manifestato da Gesù di Nazareth sia manifestato da Giovanni di Gamala sia manifestato da Giuda o sia manifestato da Pinco Pallino cioè a noi quel principio ci fa schifo chiunque lo abbia manifestato cioè è il principio in se stesso che andiamo ad attaccare per cui ci interessa relativamente andare a trovare la verità storica se non si mettono in discussione l'essenza dei principi dottrinali e questo già con questo Galavotti estremamente logorroico oltretutto ha preso un sacco di tempo specialmente e usava le risposte per fare delle altre conferenze tant'è che ha ritardato il fatto di andare a mangiare siamo andati a mangiare molto tardi solamente andando a mangiare molto tardi la ripresa dei lavori ha visto molte meno persone di quanto ce ne erano la mattinata proprio perché le persone si sono attardate a mangiare per cui una specie di non rispetto delle persone un non rispetto della sala della gente che si era mossa per venire a differenza invece di Roberto Vacca fate conto che i rapporti sono questi Roberto Vacca ha fatto un intervento di 27 minuti io ho le registrazioni su base elettronica per cui posso anche misurare e ha fatto circa una mezz'oretta di risposte molto brevi insomma anche perché andava ringraziato e basta e Galavotti invece ha fatto un'ora e qualche secondo di conferenza oltretutto usando un powerpoint in maniera aberrante cioè ho usato il powerpoint non per illustrare ma proprio come testo scritto e nello stesso tempo ha fatto un livello di intervento un livello di risposte che non so se sia vicino all'ora insomma 40 minuti circa per cui ha occupato molto spazio ha soffocato quello che era i possibili interventi per carità l'oratore ha dei diritti a cui si riconoscono però le azioni sono quelle che determinano poi la qualità dell'oratore oltre a Galavotti abbiamo altri due oratori che è Cascioli e Donini allora come sempre gli oratori vanno rispettati comunque perché dicono delle cose loro perché presentano delle cose che fanno loro però noi come pagani non possiamo non notare in Donini e in Cascioli due operazioni diverse da quelle che è la manifestazione laica e anticlericale che loro manifestano per esempio in Donini ci ha tenuto molto a sottolineare come alcuni aspetti gli aspetti della miracolistica cristiana che ci sono nei Vangeli ufficiali in realtà stanno a significare delle cose esoteriche ora la leggenda secondo cui i Vangeli nascondono cose esoteriche beh veramente l'aveva già fatto alla Blavansky ancora nel 1800 cioè l'esoterismo dei Vangeli ed è una cosa che ogni tanto viene riproposta da qualcuno per dimostrare che i Vangeli non sono così becceri squallidi come appaiono a una prima lettura ma nascondono qualcos'altro e questo voler dire che nascondono qualcos'altro significa avere un progetto in funzione di faccio un esempio se io prendo la teogonia di Esiodo e costruisco un commentario costruisco un'interpretazione della teogonia di Esiodo non è tanto importante la teogonia di Esiodo ciò che è importante è la mia è il mio commento il mio commento alla teogonia di Esiodo è quello che dà la mia visione della vita pertanto sì esiste la teogonia ma è il mio commento che è importante la teogonia dice delle cose io commentandola ne dico altre e do il punto di vista di lettura di quello che è la teogonia in pratica la teogonia è una cosa il mio commento è ciò che va a costruire quello che io voglio ed è quello che ha fatto Donini cioè Donini presentando i Vangeli non so tipo la visione esoterica del fico che poi la visione esoterica del fico è la roba a mettersi in mani i capelli perché non è altro che la visione esoterica che viene data dalla teologia ufficiale cioè il fico che non gli dava i fichi non è un altro che gli ebrei che non si sottomettevano il suo messaggio per cui andavano distrutti andavano maledetti e vi ricordo che con questo è stato costruito i campi di sterminio cioè i campi di sterminio degli ebrei vengono costruiti in tutto il corso della storia proprio per l'odio che i Vangeli ne manifestano e il clou finale diciamo così il clou storico non sono altro che i campi di sterminio nazisti che sono un continuato sono un altro riproposizione in maniera diversa di quello che è stato lo sterminio quindi gli ebrei sono stati sottoposti all'opera dei cattolici tanto per essere chiari per cui come messaggio esoterico c'è roba da mettere le mani i capelli altri messaggi esoterici li ha fatto tipo so guarire il cieco il cieco che vede la luce e l'attività del pazzo di Nazareth che porta alla luce della conoscenza alle persone poi uno si mette le mani i capelli e dice con queste cose io ti faccio quello che vuoi 2000 anni di storia però ti hanno dimostrato qual è la realtà dell'interpretazione e questo Donini ci ha messo molto peso su questo era effettivamente una cosa per lui molto importante che poi ha spostato sulle questioni storiche Donini ha dato anche molti dati storici molti dati storici che ci hanno permesso anche di riuscire a comprendere alcuni passaggi per esempio la rivelazione del Paolo di Tarso avviene sulla via l'illuminazione avviene sulla via di Damasco solo che Damasco non è la città di Damasco ma è la comunità di Qumram a 30 km da Gerusalemme dove praticamente quelli di quella comunità si chiamavano si chiamavano definivano se stessi la comunità di Damasco per cui diventa un po' più logici alcuni passaggi al di là poi delle definizioni storiche comunque in realtà Donini ha dato parecchie notizie Cascioli anche Cascioli è andato a presentare la sua vicenda giudiziaria ora sinceramente io la pensavo in maniera diversa la vicenda giudiziaria di Cascioli cioè quello che non avevo capito nella sua vicenda giudiziaria era che Cascioli lo aveva fatto apposta cioè lui è andato alla ricerca di usare la magistratura per attaccare la chiesa cattolica aspettando il momento giusto aspettando che lo stupido ci cascasse ora non è che la cosa mi piaccia molto sinceramente noi come pagani politeisti sappiamo che sappiamo che mezzi e fini hanno una relazione dialettica e se si hanno dei fini questi fini vengono qualificati dai mezzi che assumiamo per determinarli ora Cascioli vabbè ha fatto la sua vicenda la sua vicenda di denuncia ha avuto delle sentenze molto discutibili anzi una addirittura credo falsa perché usata su una legge che è stata abrogata purtroppo la corte costituzionale abroga delle leggi e spesso la magistratura periferica se ne sbatte altamente in quella abrogazione e va avanti per il suo vediamo se con l'informatica questo potrebbe un po' cambiare sta di fatto che anche Cascioli non usa il laicismo cioè non usa il suo discorso della faula di Cristo per delle cose finalizzate a questo cioè per rivelare l'inganno ma usa la rivelazione dell'inganno per delle cose diverse e lo ha dichiarato egli stesso quando ha detto che sì lui ha una visione di anima e corpo che però non la vuol dire perché una volta che l'aveva fatto gliel'hanno fregata e gliel'hanno messa in internet va beh abbiamo un milione di segreti e abbiamo un milione di scoperte dell'acqua calda no? e spesso pensiamo che la nostra scoperta dell'acqua calda sia la migliore scoperta del mondo e gli altri ce la fregano beh io come persona religiosa non è che amo molto questo tipo di aspetti cioè se io ho qualcosa la sparo i 420 però sono scelte mie scelte di Cacioli sono le scelte di Cacioli io non le metto in discussione naturalmente abbiamo apprezzato l'impegno personale che mette Cacioli nelle sue cose questo nessuno glielo discute però personalmente come pagani non è che apprezziamo molto questa attività certo ogni persona ha il diritto di indignarsi ogni persona ha il diritto di chiedere giustizia per le offese che subisce però cercare di fregare gli altri per riuscire ad ottenere un risultato non so mi lascia molto perplesso sinceramente molto molto perplesso e questo non è che mi piaccia non è che mi sia piaciuto molto tutto sommato però torno a ripetere sono posizioni soggettive nel senso che è la mia visione rispetto alle cose e quando vi parlo e vi illustro le cose vi illustro dal mio punto di vista naturalmente sono venute fuori anche tutta una serie di informazioni storiche diciamo così sull'origine dei cristianesi sui vari passaggi su Paolo di Tarso come è stato messo sul fatto che Scioli stesso l'ha detto che il primo a parlare di un tale Paolo di Tarso è un certo macione Mazzaro se non mi sbaglio ha anche illustrato il fatto che probabilmente la nascita del cristianesimo sia dovuta all'attività di Giuseppe Flavio più che più che il padre di Nazareth o altra gente cioè in pratica è stata dovuta da chi è stato deportato dopo il 70 dalla Palestina fino a Roma ha venduto come schiavo anche perché Roma ha detto basta ciò che facevano gli ebrei il problema è che dopo ne hanno fatte ancora è stata abbastanza pesantina la faccenda in tutto questo naturalmente sparisce la figura di Nicotri non voglio neanche commentarla al di là delle sue posizioni laicistiche secondo me a un certo punto è sfuggito e sparito senza salutare però non so bene se lo abbia fatto quando io non ho visto oppure no vabbè comunque non ha detto niente di nuovo niente di particolare e spesso non ha neanche avuto il polso di tenere la situazione però torno a ripetere questo è il mio punto di vista sul convegno e va alza la pena andarlo a vedere è stato anche importante vedere cosa è stato detto cosa è stato fatto quali sono gli interessi delle persone dove vanno gli interessi delle persone e io mi auguro che il prossimo anno ne organizzino un altro secondo convegno con quelli che riusciranno ad avere con quelli che riusciranno a parlare insomma certo che è diverso dal discorso non c'era né Pepe non c'era non c'era Pepe non c'era Desna non c'era nessuno dei grossi che avrebbero voluto che ci fossero perché in effetti la loro visione anticlericale è molto è molto più forte insomma è molto più marcata e questo è la mia interpretazione del convegno di studi laici di di Montegrotto Termi che è stato ottenuto domenica naturalmente torno a ripetere è il mio punto di vista è il mio punto di vista del punto di vista di una persona religiosa pertanto io tutto quello che avviene lo valuto sempre in forma religiosa prima di passare a divinazione tanto per rompere questo discorso vi leggo una lettera che mi ha dato Lisa in gruppo è una cosa che già girava sui ENG l'avevo già vista